rispetti il 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 come passiamo in stradale? è successo? sto girando un po' di video una foto eventualmente qualche foto o qualcosa se mi seguono ve li posso chiedere? è un militare famoso? si 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 se si 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 ma tra chi è successo? tra l'ape che si va a sudare come sei dentro voi Stranamente, molto stranamente, mi ha chiamato rosso, stranamente, ma perché ne facevo passare? Non mi fa la foto, aspetta che passiamo, a me va bene, lo stesso, attento a questo, che lo conosco, l'ho incontrato anche un'altra volta, dai, se mai ci voglio, no? A sì, c'è, non siamo davanti, l'ho incontrato, ma no c'è un'altra volta.